ciao a tutti scusate se sono un pochino sparita comunque niente questo è il video per l'estrazione del concorso in collaborazione con le cute can kill mi dispiace davvero se sono sparita comunque prestissimo farò ancora dei video per cui un pochino di pazienza ho avuto solo le solite cose con lavoro eccetera comunque grazie tantissimo a tutti quelli che hanno partecipato a questo concorso siete stati davvero in tantissimi e i commenti sono 1700 143 è incluso il mio dove dicevo che il concorso si chiudeva comunque davvero davvero tantissimi grazie 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 per aver partecipato allora andiamo a vedere quante pagine sono sono quasi in tutto 4 pagine di commenti andando sul sito di random.org scrivo 4 che è il totale delle pagine e lui mi dice su che pagina andremo a fare l'estrazione dei vincitori alla pagina 3 per cui torno sul mio sul mio canale andiamo alla pagina 3 dei commenti e inizio a selezionare tutti i commenti non se faccio seleziono tutto perché sennò mette dentro anche altre cose che non servono invece noi vogliamo solo sapere i commenti e gli utenti per cui l'estrazione si farà sul nome degli utenti e sul commento adesso seleziona tutto seleziona tutto fino in fondo alla pagina ce ne sono davvero troppissimi infatti ci sto mettendo un mesd'ora seleziona 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 ce ne siamo quasi ecco qua allora questo è l'ultimo commento copio e vado sul sito di random.org a list randomizer che praticamente ci dirà chi sono i vincitori allora incollo come vedete qua c'è il nome dell'utente quando è stato postato il commento e in fondo il commento per cui il primo commento nome utente che verrà in estratto sarà il vincitore del primo premio e il secondo sarà il vincitore del secondo premio adesso niente e facciamo l'estrazione e in bocca al lupo a tutti vediamo un po' chi è allora ecco qua il primo commento e adesso andiamo a vedere a chi corrisponde chi è che l'ha lasciato facciamo una ricerca ecco qua ecco qua chi win a 1982 vince il primo premio forse adesso controlliamo se ha lasciato 5 commenti e non più di 5 perché nel caso che ne avesse lasciate più di 5 sarebbe squalificata penso sia una femmina chi win e andiamo a vedere quanti ne ha lasciati in tutto allora qua va bene qua sono solo 3 adesso andiamo a vedere nelle altre pagine se ne ha lasciati di più o meno cioè di più o giusto insomma qua niente qua niente qua niente per cui ok per i commenti ci siamo è stata corretta non ne ha lasciati più di 5 per cui adesso andiamo a vedere sul suo canale se è iscritta al mio canale andiamo a vedere nelle sue iscrizioni dov'è 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 ecco qua iscrizioni andiamo a vedere se c'è la mia icona dove sono dove sono dove sono dove sono eccomi qua ok allora chi win a 1982 vinci il primo premio del concorso in collaborazione con cute can kill complimenti e andiamo a vedere la seconda la seconda vicitrice che è joe loves luca credo sia una femmina comunque oh adesso andiamo a vedere quanti commenti ha lasciato qua ce ne sono due adesso andiamo a vedere nelle altre pagine qua neanche uno nella seconda pagina niente fatti vuoto adesso andiamo a vedere nella prima e anche qua per cui onestissima onestissimo onestissima credo anche lei adesso andiamo a vedere se è iscritta al mio canale ok andiamo a vedere sul suo canale e vediamo un po' tutto sulle iscrizioni dove dove è ah qua eh un sacco di iscrizioni adesso andiamo a vedere sicuro un sacco di gente andiamo a vedere se c'è il mio canale dove sono dove sono eccomi qua ecco qua la mia icona per cui joe loves luca vinci il secondo premio del concorso in collaborazione con le cute can't kill e per favore le vincitrici o vincitori vincitrici credo comunque mandatemi una mail con il vostro indirizzo e al più presto possibile vi manderò il pacchettino con il regalo dentro se invece non mi contattate proverò a contattarvi io se nessuno mi contatta rifarò l'estrazione e niente tutto qua comunque vi ringrazio davvero tantissimo per aver partecipato come dico sempre non prendetevelo se non avete vinto perché tanto io in tanto tempo non ho mai vinto niente ho partecipato a tutti i concorsi youtube e vabbè e niente grazie davvero ancora per aver partecipato e alla prossima ciao ciao ciao